E poco più tempo, a PAPI arriva il plan per mudare la area di Freezone per un'altra località. La cultura e la movimentazione del modamento di Waf, poco a poco, la Freezone, tanto, è il suo spazio adecuato. Il nostro conversato con il cultivo di Freezone, cosa conto a noi? Il plan andrà tomano tanto tempo per sviluppare la realtà, però, dentro di poco, lo mira la movimentazione. È grata la notizia che ha passato l'anno passato, l'intero sistema ha cominciato. Abbiamo fatto un po' di cose buoni, passando in un'area di barcadera. Abbiamo fatto due parti di noi, con il nostro porto di Aztec, con un'altra base di sviluppare il porto di barcadera. E' un'altra parte di Anlech Cad, che voglio fortificare nel momento anche. Abbiamo fatto un'altra base, con un'altra base di un'altra base, con un'altra base di un'altra base, con un'altra base. Abbiamo fatto un'altra base, con un'altra base, con un'altra base di un'altra base di un'altra base. Pag. 06. Dewey sta facendo un'analisi nella barcadera e revisando il masterplan per mettere tutti in pratica. Noi stiamo parlando solo con un drone, perchè il drone passa in arrivo al terreno per farlo e farlo in altra, che ci sono i dettagli, perchè non ci sono mai informazioni nel prossimo lunedì. È parte di Frizo una ora, è stata in Hopi Ayan sin attività. È attività che non sta tomando il luogo in un'area di Bushiri. La nostra situazione è una situazione che non c'è un plan, perché il plan è ora che il loro sali in qualche lugar, e il plan è iniziato al comienzo qui. Abbiamo in l'APA, il signor Josie Figueroa, che sta mandando in un momento qui, quindi è in base di sviluppare i plani per parte della banda di Raff, e due settimane passate, noi stavamo in una riunione, e abbiamo con un certo una risposta, che non ci sono mai riuscita, che non ci sono mai riuscita, che non ci sono mai riuscita, che non ci sono mai riuscita. che non ci sono mai riuscita che ne sono mai riuscita, che si chiedono il territorio e poi il terreno è arrivato in un'area un'area completamente nuova di Port Authority. Il edificio è molto difficile, ma non è vero, ma non è vero. Il edificio è di APA, l'APA è passato a comprare il edificio, il terreno è vero, ma non è un plan, ma non è un plan, ma non è un plan. Il terreno è destinato a freezone e non per fare nessuna attività, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. Ma questa regla è necessita di APA, prometto di desmantellare qualche edificio. Noi non è vero, ma non è vero, ma non è vero. Il ultimo cliente che abbiamo con la banda è un sette o tre oltre alle persone passate a comprare il terreno di zona libera per le persone. La idea di cambiare è vero, ma non è vero, ma non è vero. Quando ci siamo iniziati a sviluppare una barcadella, abbiamo fatto un'efficio, abbiamo fatto una compagnia, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. Stiamo a prenderci una infezione di 60 milioni di florini, abbiamo fatto un'altra ora che, abbiamo visto che abbiamo colgonato. Il processo è sviluppata, in palazzo, ma non è vero. L'altro, ma non è vero. Questa parte della zona libera, per li sono due piloti. Un piloti è difficile nel mondo privato, e poi abbiamo una quantità di edifici nel mondo di governo. Quindi noi stiamo offrendo un pilota per l'arrivo, per la prima cosa che si vanno a cambiare l'arrivo. Quindi se si vanno a preparare i video, quindi ci sono aiutati nel design e l'arrivo, noi stiamo arrivando a poco a poco, ma non si vanno a cambiare l'arrivo. Però è qualcosa di un anno, non è qualcosa che va a passare in tutti i lì.